Buongiorno youtube e bentornati qua sul mio canale Oggi giornata di m***a Sa da seguire la m***a Lo sapevate che la cacca degli elefanti è totalmente inodore ed è composta da fibre vegetali Questo perché gli elefanti quando mangiano tengono dentro di loro 50% del nutrimento E il restante 50% lo cagano fuori Matteo di dove sei scusa? Di Fabriano Questa è carta colorata È riciclata, è diversa Adesso che sappiamo come fare la carta direi che possiamo procedere con il giro Ragazzi, rafting! Venite con me, metto sulla GoPro e andiamo Si va a scalzi nell'acqua Wild A presto! Grazie a tutti Grazie Capitano Ciao Capitan Capitano Abbiamo finito il rafting Siamo arrivati in un ristorante In mezzo al niente Riprendiamo il viaggio E andiamo verso la cascata Ve l'avevo detto che avevo preso le scarpe da scoglio Per venire qui in Thailandia Comunque camminare qui in mezzo Alla foresta In mezzo alla giungla In mezzo alla foresta è troppo bello Mamma ragazzi E' figata scendere da queste rocce Torniamo al nostro pulmino E andiamo a fare l'ultima attività della giornata O meglio l'ultima attività di questo tour Ciao Sapete com'è fatto un banano dentro? Facciamo il cambio macchina Lasciamo il furgoncino per salire sul pick up Che figata Allora In thailandese I numeri si dicono Nen 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 Somm 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 Si Si Ha Ha Ho 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 Ket 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 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 Somm B Somm Somm quando dici ciao a un maschio quando si dice ciao alla ragazza ragazzi la sicurezza prima di tutto è su un pick up in 20.000 ma io ho gli occhiali di Federica è un po' strano un bel morsino hai fatto come me all'inizio non sta male poi bam facciamo il cambio di telecamera per andare dagli elefanti recuperiamo le banane abbiamo le banane dobbiamo separarle e poi andiamo abbiamo le banane abbiamo i meloni si scivola di brutto ragazzi ci scivola troppo sono un maschio due femmine il maschio c'è la proboscide lunga 20 anni la donna a sinistra ha 22 anni e l'altra ne ha 40 a qualcosa ah 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 Ohhhh! Il proboscone! musica 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 c'è il limo è un disastro musica 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 Oh 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 Oh